apriamo lo spazio dedicato alla radio visione diretta facebook dall'account radio vaticana e vatican news stefani insomma accogliamo il nostro ospite di oggi che si chiama emanuele michelangeli benvenuto arte terapeuta sì buongiorno partiamo proprio da questa definizione che cos'è l'arte terapia allora diciamo che l'arte terapia è una forma di intervento una metodologia di intervento che coinvolge l'arte come la pittura la scultura la scrittura il teatro la musica e la danza diciamo che in realtà è una pratica antichissima perché fin dall'antichità l'uomo ha sempre avuto bisogno di dare forma al proprio sentire attraverso l'arte no se pensiamo che ne so agli uomini della pre storia che facevano le pitture rupestri ad esempio per cui diciamo che l'arte è qualcosa di arcaico davvero ben radicato dentro di noi e il vantaggio è che permette un'espressione con il sentire molto diretta bypassando tutti quelli che sono gli aspetti più cognitivi più logici più razionali dell'intelletto delle parole quindi diciamo che questo è un po il mondo dell'arte terapia fondamentalmente quindi si parte da una comunicazione dell'arte in questo caso come hai accennato insomma dei tempi della pre storia insomma sì davvero che si produce l'arte e l'abbiamo dentro da sempre l'arte terapia in realtà e da lì sfruttare quest'arte proprio per la terapia in che modo per il benessere fondamentalmente diciamo il lavoro dell'arte terapeuta è quello di riuscire a tirare fuori la persona le risorse creative ogni materiale ogni tecnica artistica ha quello che viene definito in arte terapia un potere evocativo lavoro con la mediazione nelle tecniche di narrazione quindi con la scrittura per magari aiutare le persone che hanno avuto dei traumi un lutto delle perdite e quindi c'è la possibilità di narrare tutto quello che è la loro esperienza di vita oppure si lavora per esempio con le tecniche plastiche per il contenimento delle emozioni più dense ad esempio nelle situazioni diciamo io per esempio lavoro tanto con i giovani e ci sono dei ragazzi che fanno davvero tanta difficoltà a gestire le loro emozioni a contenere per esempio la rabbia ad esempio le tecniche plastiche danno un confine un contenimento sono accoglienti per certi versi per cui il lavoro dell'arte terapeuta è quello di scoprire quali sono le caratteristiche tecniche di ogni materiale e adattarle al tipo di utenza quindi tu conosci tutte le arti allora diciamo che noi conosciamo tutti gli strumenti dell'arte terapia poi la creatività è davvero in ogni cosa quindi più che altro diciamo io ho avuto la fortuna per natura di essere una persona abbastanza creativa quindi l'arte ha sempre fatto parte della mia vita questo poi l'ho fatto diventare il mio lavoro per aiutare gli altri però fondamentalmente diciamo i miei talenti se posso dire così c'è la creatività quindi fondamentalmente quello che conosce un po' l'arte terapeuta è questo aspetto qui è appunto il discorso legato alla creatività quindi l'approccio è quello attivo insomma della persona coinvolta attivamente nella produzione nella creatività davvero c'è anche una parte tra virgolette tra virgolette più passiva c'è la fruizione dell'arte magari ammirarla vederla osservarla ascoltarla se si tratta di musica entrambe entrambe le cose c'è diciamo l'aspetto di osservarla ascoltarla che serve per attivare un po' tutto quello che è il processo creativo e poi c'è il momento della creazione che è un momento trasformativo dove io do voce al mio sentire e lo vedo concretamente proprio ieri stavamo in formazione diciamo dirigo una scuola di arte terapia e le persone insomma gli ospiti esterni che avevamo chiamato per assistere insomma all'esperienza ci dicevano la cosa straordinaria che quello che sento per la prima volta io riesco a toccarlo con mano a vederlo concretamente in maniera tridimensionale quindi questo è davvero molto bello ecco ci sono naturalmente delle resistenze sì tu le trovi insomma nelle persone ci vuole diciamo un po' di sensibilità per piano piano accogliere no le persone a a raccontare un po' tutto quello che è il loro mondo la cosa fondamentale è che c'è la cosa davvero importante da dire è che l'arte terapia questa cosa un po' riesce a bypassarla c'è anche la persona che fa più difficoltà a usare il mezzo artistico per diciamo aiutarsi fondamentalmente per quanto se la può raccontare insomma per quanto può avere delle resistenze comunque qualcosa tira fuori perché appunto come dicevo prima bypassa tutti quelli che sono gli aspetti più cognitivi no più i blocchi ecco ti aiuta a superare un po' tutti quei blocchi che di solito ci fanno stare un po più su quindi anche un'alternativa tra virgolette insomma in questo senso alla comunicazione verbale cioè quello che io non riesco a esprimere verbalmente per tanti motivi può essere appunto l'emozione può essere una volta uno si vergogna non riesce a esprimere quello che ha dentro lo fa attraverso l'arte in tutte le sue maniere spiegaci anche quali sono i tipi di arte allora che vengono sfruttati nell'arte terapia usiamo beh come hai detto un pochino tu prima usiamo la musica usiamo tutti gli aspetti proprio classici dell'arte e poi ci sono le tecniche plastiche le tecniche pittoriche le tecniche diciamo le foto lavoriamo con il collage il decollage con l'argilla davvero c'è c'è un mondo ma appunto come ti dicevo il principio fondamentale del lavoro tecnico è quello di riuscire a conoscere un po' quegli aspetti evocativi e aiutare le persone attraverso la creatività per tirare fuori un po' quello che desiderano ma viene in qualche modo riconosciuta come terapia l'arte terapia sì per fortuna l'arte terapia una norma nazionale su questo siamo quasi come i paesi europei sono davvero molto felice di dirlo perché diciamo le professioni di questo tipo purtroppo nel nostro territorio stanno un pochino più indietro l'arte terapia da qualche anno ha avuto una norma nazionale che definisce quali sono gli standard di formazione per cui diciamo c'è questa norma che prevede alle scuole che dice alle scuole per formare arte terapeuti dovete mantenere questi requisiti qui quindi sì per fortuna diciamo noi su questo siamo siamo un po' più riconosciuti c'è ancora tanto da lavorare ci impegniamo davvero tanto insomma tra le associazioni e anche un po' politicamente perché onestamente la cosa che a me piace di meno però è opportuna insomma farci sì certo ecco collegandomi proprio a questo Stefani dicevamo lo spiegava anche Emanuele l'arte insomma antica ci viene da dentro è un'espressione insomma di noi stessi ma la figura del dell'arte terapeuta ecco è relativamente recente invece sì è abbastanza recente sempre qui diciamo che comincia a prendere piede diciamo adesso in maniera un pochino più presente saranno circa una decina d'anni che insomma cominciamo a lavorare all'interno di questo settore come figura proprio riconosciuta sì una decina d'anni. E come si può ricorrere a un'arte terapeuta? Allora ci sono ci sono diverse possibilità nel senso che ad esempio nel settore sociale queste figure cominciano ad essere inserite nell'RSA con gli anziani nei centri di aggregazione giovanile nelle scuole io sono romano di origine ma lavoro nelle marche e noi nelle scuole abbiamo la possibilità comunque di fare diversi progetti insomma di arte terapia con i ragazzi insomma degli elementari la cosa interessante da dire è che i progetti a seconda del tipo di utenza cambiano con i bambini chiaramente farò dei progetti educativi con gli anziani chiaramente saranno dei progetti più con gli obiettivi di sostenirli insomma nel nelle loro memorie nel in tutto quello che è quella forma di supporto lì è chiaro che si fanno interventi diversi a seconda del tipo di utenza a cui ci rivolgiamo chiaramente. Quindi il ruolo anche dell'arte terapeuta è anche questo riuscire ad adattarsi davvero alle persone che sia di fronte. Esatto la parola proprio che più risuona nel mondo dell'arte terapia l'arte terapeuta si adatta all'utenza si adatta ai tipi di materiali è una disciplina è una professione davvero tanto di sentire. Emanuele ma quanto l'arte è stata terapeuta per te? Mi ha salvato la vita direi davvero per me è stata molto terapeutica è stato l'inizio del diciamo del mio percorso attraverso la musica la musica mi ha dato la possibilità proprio di uscire da delle dimensioni molto dense mie di vita e e poi è stata terapeutica proprio nella nel teatro nella danza ancora adesso se non ci avessi i miei spazi artistici diciamo che oltre a la psicoterapeuta i miei spazi artistici sono quelli che mi aiutano andare verso. E quanto poco invece si dedica a questo nell'educazione nella formazione. Purtroppo questa cosa nelle scuole è davvero molto indietro questo chiaramente a mio parere permettetemelo però l'educazione artistica è una cosa davvero che sta un po troppo sullo sfondo a mio avviso e invece l'arte ha un potere evocativo un potere di dalla possibilità proprio di entrare in un contatto molto profondo con l'animo proprio della persona per cui davvero sarebbe necessario insomma sensibilizzare un po' sull'argomento anzi e grazie che qui lo possiamo fare perché è davvero molto importante. Tra l'altro proprio dieci giorni fa il Papa ha incontrato gli artisti dello humor insomma si parla in questo caso di umorismo comicità però è un richiamo anche in questo senso all'arte il Papa si è l'arte terapia fa parte di tutto ciò diciamo che la creatività è un bellissimo alleato del piacere fondamentalmente il piacere è quell'umorismo lì che ci aiuta a tenere più sullo sfondo la paura diciamo che la creatività la possibilità di fare arte terapia quindi e attingere a quelle risorse creative ti danno la possibilità di lasciare un po la paura più sullo sfondo e ricercare quel senso di soddisfazione che c'hai quando senti i tuoi desideri realizzati i tuoi obiettivi soddisfatti i tuoi bisogni raggiunti quindi la creatività è davvero molto importante l'arte non solo da vedere da osservare da apprezzare ma da fare propria da sentire da esperire ti direi proprio da sperimentare dal dal concetto che non c'è il talento cioè ci sono naturalmente persone più o meno talentuose però tutti noi grazie di siamo un'opera d'arte diciamo che poi nella mia testa partono un sacco di informazioni grazie averlo detto perché molti pensano che la creatività sia una dota esclusiva riservata agli artisti o alle persone dotate di un particolare estro in realtà non è così tutti siamo davvero molto creativi il punto è avere un po il coraggio di andare verso quella creatività e scoprire qual è quella dimensione di piacere creativo che ci può aiutare a sostenerci nella densità insomma della vita anche di libertà e di dare libero spazio a tutto ciò che invece ci incatena noi vediamo i bambini quando fanno i disegni da piccoli quanto giudizio c'è sul disegno del bambino la mamma il papà i genitori vengono incanalati davvero e invece quello è come se giudicassi una parte di loro che sta comunicando che si sta esprimendo per cui c'è attenzione quando i bambini tornano a casa e portano quel quel foglio col disegno che magari hanno le zampette secche 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 tutto sproporzionato eh ma che cosa hai fatto no cioè lì sta comunicando in qualche modo anche la libertà si comunicare la libertà del pensiero che cosa volevi dirmi che cosa mi stai di che cosa di che cosa parla questo disegno che hai fatto quindi insomma sì c'è un mondo davvero che si può aprire rispetto al tema dell'arte terapia e tra l'altro in questo contesto anche relativo al fatto abbiamo detto prima inerente a magari alcuni se vogliamo anche disagi che vengono espressi tramite l'arte ma non solo l'arte fa bene a tutti per cui riuscire a esprimersi tramite una qualsiasi arte fa bene a prescindere insomma dal comunicare delle cose interiori insomma fa bene sì sì certo certo assolutamente è proprio liberatorio a prescindere da da tutti dovrebbe diventare una materia obbligatoria nelle scuole no? sì sì io sarei molto contento e diciamo che la cosa interessante è che tante persone questa cosa la stanno scoprendo quindi si rivolgono a figure professionali come l'arte terapeuta o comunque cominciano un po' a formarsi in quello che è il mondo dell'arte terapia e allora ringraziamo grazie a voi di averci aperto questo spazio grazie grazie di cuore noi concludiamo lo spazio dedicato alla radiovisione sulle pagine facebook di radio vaticana vatican news ma proseguiamo in radio tra poco quindi rimanete con noi grazie a tutti